Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Bolaffi, benvenuti davvero a tutti coloro i quali ci seguono ormai da tempo e con affetto, li ringraziamo e benvenuti in modo particolare a chi ci segue per la prima volta. Visto che siamo all'inizio trasmissione, la cosa più giusta credo sia quella di qualche presentazione del sottoscritto Lorenzo Lamorte, lascio che si presenti, la mia collega Paola Tomezzoli, benvenuti. E soprattutto direi molto importante la presentazione, doverosa ripeto, dell'azienda che rappresentiamo. Lo vedete in sovraimpressione, ci chiamiamo Bolaffi, credo che sia facile insomma per un'azienda come la nostra farsi riconoscere perché una Bolaffi è un'azienda storica, è un'azienda che c'è dal 1890, però anche qui è giusto per chi non conosce la Bolaffi qualche informazione. Siamo un'azienda che si occupa di collezionismo e quindi un'azienda veramente di nicchia se vogliamo perché non è che ce ne sono molte aziende che seguono. Il collezionismo, i collezionisti di che cosa? Di tre grandi direi affascinanti in maniera direi altrettanto importante filoni che sono quello filatelico, quindi il collezionismo di Franco Bolli, quello filografico, il collezionismo della scrittura, della testimonianza della scrittura dell'uomo sui documenti, diciamo dai primordi allo spazio e poi non ultimo il collezionismo di numismatica, quindi il collezionismo di monete. La puntata è dedicata proprio a questo, delle bellissime monete. La Bolaffi è un'azienda che è su tutto il territorio, quindi magari ci state seguendo dal Piemonte, dalla Veneto, dall'Emilia o comunque sappiate che ci siamo e ci siamo veramente ovunque. Abbiamo quattro negozi, quindi il negozio di Torino, quello di Milano, di Roma e di Verona, facilmente raggiungibile in centro, con parcheggi comodi, dove potete venire a trovarci per vedere le cose che vi presentiamo, più tantissimi altri oggetti. Guardate, la visita dei nostri negozi da sola vale il viaggio, perché scoprite degli oggetti veramente curiosi, con veramente prezzi un po' per tutti. Abbiamo però, è molto importante, credo che questo faccia piacere, una rete di consulenti su tutto il territorio nazionale, questo per raggiungere veramente ovunque voi siate, quindi l'obiettivo di questa trasmissione è quello di presentarvi delle bellissime monete, qualora ci fosse qualcosa che vi piace, che vi incuriosisce e avete il piacere di avere qualche informazione in più, di vedere veramente, diciamo di persona, toccare con mano queste monete, chiamateci, il numero di sua impressione non serve altro che prendere un contatto, non è una telefonata d'acquisto quello che vi chiediamo e ho visto quella moneta, ne vorrei sapere qualcosa in più, vorrei entrare un po' più nel merito, sto collezionando delle monete italiane, vorrei avere informazioni, perché? Perché non è che tutto quello che abbiamo ve lo presentiamo in queste trasmissioni perché non avremo il tempo, quindi entrate in contatto con Bolaffi, siamo disponibili praticamente tutto il giorno e poi se avete piacere ci incontriamo, vi facciamo vedere le monete e se vi farà piacere, a noi farà molto piacere, acquisterete queste monete e, lo dico già adesso, poi lo ripeteremo, possiamo anche studiare con voi dei programmi di pagamento in modo che veramente non ve ne accorgiate quasi. Quindi iniziamo la trasmissione, lascio la parola a Paola, inizieremo un primo blocco di monete che ci riportano veramente all'antichità, oltre 2000 anni fa e poi verso la fine trasmissione delle monete un po' più moderne. Quindi la parola a Paola e godetevi la trasmissione. Grazie. Partiamo con le monete dell'impero romano e con un aureo, quindi una delle monete, la moneta più importante in termini di coniazione e di valore. È un aureo di un imperatore particolare perché si tratta dell'imperatore Lucio Vero, che in realtà fu un imperatore, è poco conosciuto perché affiancò nel suo regno per un certo periodo, Marco Aurelio. Lucio Vero fu insieme a Marco Aurelio adottato da Antonino Pio per volere di Adriano. Cioè quando Adriano morì e designò suo successore Antonino Pio, gli diede una condizione, cioè quella che sarebbe diventato imperatore a condizione appunto di adottare Lucio Vero e Marco Aurelio che gli sarebbero succeduti a loro volta. Quindi Lucio Vero iniziò una brillantissima carriera militare e anche come uomo politico e divenne nel 161 insieme a Marco Aurelio coimperatore. Si distingue da Marco Aurelio perché è rispetto alla vita più parca, più giusta, un po' più diciamo morigerata, ma anche Marco Aurelio l'abbiamo visto nella scorsa puntata, era anche un filosofo, scrisse un trattato di filosofia o comunque di pensieri, quindi un uomo anche colto. Invece Lucio Vero amava per così dire la bella vita, quindi era un abile condottiero militare e quindi sia Marco Aurelio che Lucio Vero condussero insieme molte campagne militari, ma di fatto era diciamo come l'altra faccia della medaglia del potere, tanto era saggio e riservato Marco Aurelio, così era amante dei festini e della bella vita Lucio Vero. Lucio Vero morì prima, diciamo relativamente giovane perché nel 169 d.C. morì nei pressi di Altino, proprio di ritorno da una delle numerose campagne militari, a causa di un infarto ufficialmente ma diciamo che una certa storiografia sostiene invece che fu avvelenato, cosa che tra l'altro non era assolutamente rara a quel tempo. Sì, diciamo che gli infarti nell'epoca romana spesso... Sì, infatti erano provocati, erano... Quindi un imperatore direi che molto curioso, molto interessante è una moneta molto rara, proprio perché lui visse poco, quindi anche le monete coniate furono veramente molto poche. Sì, infatti assolutamente, ci troviamo... tra l'altro notiamo la somiglianza con l'altro imperatore appunto che lo... con cui condivise il potere che è Marco Aurelio. I ritratti sono molto simili. Giovanile anche questo perché quello che avevamo visto, avevamo visto nella scorsa puntata un aureo di Marco Aurelio che era appunto, si poneva nei primi anni del suo impero e anche questo di Lucio Vero è abbastanza coevo a quello che avevamo visto precedentemente, per cui vediamo come veramente si assimilavano anche come immagine nei confronti dei loro sudditi, quindi come dovevano essere simili anche proprio i loro ritratti, quindi questa condivisione del potere in maniera proprio diciamo svolta in maniera molto consensuale, molto in armonia. Tra l'altro Lucio Vero era anche genero di Marco Aurelio perché ne sposò appunto la figlia Lucilla. Entriamo nel merito di questa grande meraviglia, Paola, cosa dici? Sì, direi che intanto è una qualità piuttosto alta perché siamo in 30% e infatti non solo il ritratto è molto nitido ma anche la leggenda è piuttosto leggibile. Potremmo anche vederne il rovescio perché... Sì, infatti vediamo questo busto dell'imperatore laureato, drappeggiato, corazzato. Ecco, la presenza del drappeggio della corazza non devono sembrarvi solo degli elementi estetici, avevano un significato molto importante, cioè l'imperatore quando indossava la corazza chiaramente manifestava in maniera veramente evidente questa sua attitudine militare, quindi i dettagli in una moneta romana sono molto importanti, quindi questa storia affascinante che Paola ci ha raccontato vi deve dare veramente la misura della grande gravità dell'oggetto. Guardate il rovescio, ammirate quanto è particolare Paola. Sì, è una bellissima immagine della vittoria che con la mano sinistra appende a un albero di palma uno scudo con un'iscrizione Vic Au, che potrebbe essere Augusto Vittorioso, insomma, proprio sempre riferendosi a Lucio Vero valente militare. Più di 7 grammi d'oro, quindi questa è una cosa importante perché giustamente a casa e in televisione non si percepiscono le misure. Questi sono 7,17 grammi. Circa 2 centimetri di diametro, siamo a 19 mm, che era lo standard di cognizione dell'epoca, poi cambierà nel tempo, anche in epoca romana, grandi riforme monetarie andranno a modificare nei quattro secoli d'impero pesi, dimensioni, intrinseco, titolo delle monete, perché andavano a essere commisurate le esigenze del tempo. Ecco, quello che vi ho detto serve a immaginare, ed è una riflessione che vi invito a fare, quello che vi stiamo facendo vedere non è un gadget, passatemi il termine ancorché antico, è una moneta, quindi veniva utilizzata e spesa 2000 anni fa. Questa è la sua forza, nasce per essere spesa, non per essere collezionata. Il fatto che sia arrivata ai giorni nostri, tra l'altro così bella, è la testimonianza del collezionismo, cioè del fatto che gli uomini da sempre hanno conservato queste monete. Questa moneta è collezionata da più di 1500 anni in maniera pressoché ufficiale, si hanno notizie certe di grandi collezioni fatte veramente in epoche remote. Quindi comprare una moneta come questa, signori, cosa significa? Significa cogliere tutti gli aspetti storici che Paola ci ha raccontato e farli propri, ma essere anche molto attenti e lungimiranti nell'acquisto di quello che noi ci sentiamo di definire con serenità un ottimo benerifugio, cioè quell'oggetto che ha le spalle molto larghe, non è un oggetto di moda, non è che fra due anni esce la versione 4.2 dell'Auro di Lucio Vero, è quindi un oggetto che ha storia dietro ed è proiettato al futuro. Un valore consolidato. Esatto, e questo anche dal punto di vista economico, perché oggi lo comprate a 10.800 euro. Già solo l'anno prossimo Bolaffi vi darà la quotazione aggiornata che ogni anno, grazie ai suoi cataloghi e i listini, vi andrà a far scoprire una cosa interessante che sarà cresciuta, ma non è cresciuta per un'alchimia matematica che ci inventiamo noi a fine dell'anno, la notte di Capodanno prima di stappare lo champagne, ma perché? Perché il mercato vuole queste monete, le monete romane, le monete greche sono collezionate in tutto il mondo, arabi, indiani, russi, cinesi impazziscono per queste monete come è normale che sia e quindi ecco che il loro valore non può che salire perché disponibilità sempre meno, qualità bella sempre meno. Quindi veramente concentratevi su questo che è l'otto 1201, un inizio veramente scoppiettante con questo aureo di luce vero, la richiesta è 10.800 euro, non so parlo se volevi aggiungere altro su questa moneta, però ecco godiamocelo ancora un attimo, vedete una cosa curiosa e l'aggiungo io, vedete quella, se guardate la leggenda, quindi partendo da sinistra il vostro teleschermo, in senso orario passate fino alla fine, vedete che c'è un COS2, si legge molto bene, quello intende il consolato, il consolato è una carica pubblica che arrivava dai tempi della Repubblica e che gli imperatori, tutti gli uomini politici si portavano avanti, quello ci aiuta a datare con precisione la moneta perché il consolato aveva una durata, iniziava e finiva in un certo periodo, quindi sapendo qual è il secondo consolato di luce vero possiamo dire con certezza che 163, 164 dopo Cristo, è la cognizione di questo euro. Quindi salutiamo l'auro di luce vero, l'8201, ripeto 10.800 euro, con una sorpresa perché vi facciamo vedere, vi proponiamo un'altra moneta che appartiene a questo grandissimo condottiero ma in un metallo differente, ancorché molto raro, ancorché molto importante ma in un metallo differente. che è argento e quindi ci troviamo davanti al denaro, il denaro di luce vero. Già notiamo un differente ritratto, è sempre un ritratto abbastanza giovanile dei primi anni di regno dell'impero perché siamo tra il 163 e il 164 esattamente come l'aureo che abbiamo appena visto. Però vediamo che il ritratto è differente, qui ci troviamo davanti alla testa nuda dell'imperatore, cioè non coronata, non cinta da nessun tipo di corona di alloro. Il denaro era d'argento ed era diciamo alla base della monetazione romana, era in base al denaro che erano stabiliti i rapporti e i rapporti ponderali tra le varie tipi di moneta e tra le varie frazioni delle varie monete. Se vogliamo anche vederne il rovescio direi che è altrettanto interessante perché ancora una volta rimanda al valore militare di lucio vero, cioè questa non è altro che una rappresentazione di Marte appoggiato a uno scudo che lo vediamo con la mano sinistra appunto si appoggia a uno scudo e tiene invece con la mano destra una lancia. Quindi è una raffigurazione di Marte, dio della guerra, diciamo la divinità che più si addiceva ad essere coniata sul rovescio di una moneta che aveva appunto, riportava il ritratto di lucio vero, valente condottiero militare. Sì, dimensioni analoghe a quelle dell'aureo perché parliamo di... Siamo intorno ai 17 mm. Il peso sui 3 grammi e 64. 3 grammi e 64. Ecco, come diceva Paola sicuramente il denaro d'argento era il sistema di base, di base è anche il più diffusa come moneta perché c'erano romani, cittadini romani che un aureo non lo vedevano in tutta la loro vita, pochi riuscivano a vedere i denari che comunque erano utilizzati dai mercanti, dagli artigiani. Venivano anche pagati i soldati, contrariamente a quanto si pensa, per cui era veramente il denaro e infatti fu la moneta che per prima ebbe delle difficoltà, cioè si ebbero, subì delle svalutazioni perché c'erano grosse difficoltà a recuperare la materia prima, quindi argento sufficiente per coniare tante monete quanto erano richieste dalla circolazione monetaria e dal sistema economico dell'impero romano. Questo denaro di Lucio Vero ha una caratteristica che lo rende interessante al di là dal punto di vista storico, vedete è un prezzo veramente molto molto bello, passatemi l'aggettivo bello che forse non si lega molto bene a un prezzo, però bello perché significa proprio che vi potete regalare con 700 euro, questa è la richiesta per l'8202, una piccola testimonianza del mondo antico romano. Vedete questa moneta pressoché coeva dell'altra, quella d'oro e costa veramente un infinitesimo rispetto all'aureo, però dimostra che non è una questione di metallo, di bellezza, ma è una questione di rarità, quindi chiaramente i denari ce ne sono pervenuti un numero un pochettino più alto e quindi ecco che la loro valutazione. Però ecco, forse in questo caso si può anche sottolineare che è una qualità piuttosto interessante per quanto riguarda un denaro, una moneta d'argento. Sì, parlando di qualità è importante vedere anche qui il certificato perché ne parliamo sempre e ci torniamo con forza perché è una forza, passatemi il gioco di parla della Bolafi, la Bolafi vi vende qualunque oggetto da 700 euro a 700 mila euro garantito, certificato con un certificato fotografico, con tutta l'analisi tecnica della moneta, vedete come in questo caso questo è il certificato del denaro di Lucio Vero che abbiamo appena visto e poi nella parte inferiore è molto importante la riproduzione fotografica che diventerà la testimonianza dello stato di conservazione e poi questa importante frase che ne dichiara l'autenticità garantita è il livello di conservazione in scala percentuale. Poi questo certificato in realtà si sviluppa in una seconda parte in cui c'è proprio lo studio della moneta. Quindi in Bolafi non lasciamo nulla al caso, quindi avvicinatevi veramente con tranquillità a questo mondo perché io ho piacere tutte le volte che conosco dei clienti nuovi e mi dicono ma sai ho avuto un po' di remore perché è un mercato che non conosco, allora voi ecco signori non per parlarci addosso però state guardando le trasmissioni della Bolafi, la Bolafi c'è da 120 e più anni quindi in questo mercato non ti improvvisi, quindi la garanzia che diamo le potete tranquillamente verificare e quindi fidatevi di quello che vi stiamo proponendo. Bene, io direi Paola di proseguire, quindi a questo punto salutiamo questa bellissima coppia di Lucio Vero che sarebbe bella tra l'altro valutare insieme, quindi fateci un pensiero magari all'aureo e anche al denaro. Bene, saltiamo un salto avanti di qualche, almeno di un secolo? Sì, perché siamo appunto l'aureo di Gordiano, un imperatore che governò tra il 238 e il 244 dopo Cristo, è un'immagine di un imperatore molto giovanile, questo auro è databile 241-243 dopo Cristo. Ci troviamo in un periodo in cui l'impero romano e il lento declino dell'impero romano subì un'accelerazione caratterizzata dalla progressiva perdita di alcuni territori periferici e della breve durata dei regni. Cioè ogni imperatore regnava molto poco perché veniva immediatamente diciamo in qualche modo eliminato e sostituito da un successore. erano tempi in cui il potere dell'imperatore era stabilito dall'esercito perché era in mano all'esercito il potere comunque di mantenere unito e di difendere i confini dell'impero. Gordiano III è uno di questi imperatori, uno dei più significativi imperatori di questo periodo, acclamato imperatore in età giovanissima e lo possiamo evincere da questo ritratto che veramente ci rimanda poco più di un fanciullo, probabilmente intorno ai 13 anni. Non conosciamo neppure con esattezza la data di nascita di Gordiano III e anche egli dovete fronteggiare attacchi esterni ed insurrezioni interne all'impero e il suo nome è legato ad una vittoriosa guerra contro l'esercito di Shapur I che era un re di Persia e fondatore della dinastia sassanide che appunto minacciava ad invadere addirittura l'Italia. Le parole di Paola sono sicuramente una musica diciamo rispetto a quella che era la storia perché ci soffermiamo su questo, potremmo star qui a gridare proclami su come sia giusto e su perché sia giusto comprare queste monete ma ci piace proprio soffermarci sulla storia perché insistiamo nel dire che queste sono la testimonianza reale e concreta di questa storia e questa storia signori non è una storia del vicino di casa, è una storia di tutti noi ed è una storia tanto più di noi italiani perché se vogliamo abbiamo avuto l'onore di aver fondato questo grande impero quindi questo sicuramente però è talmente importante che tutti se ne sono accorti, ripeto quindi i grandi collezionisti mondiali vogliono e combattono per avere monete così belle quello che vedete oggi nei vostri teleschermi e domani potrebbe essere a casa vostra non è una moneta, è un'opera d'arte, guardate che pulizia di conio, guardate che livello di dettaglio ammirate la conciatura, se ricordate la moneta vista poc'anzi, avevamo queste chiome fluenti tipiche dell'inizio impero, qui abbiamo una conciatura più legata già all'oriente quindi vedete che proprio la moneta come testimonianza mediatica di questi uomini che hanno fatto veramente la nostra storia, guardate anche qui il drappeggio, guardate la leggenda questa è una moneta battuta a mano, un colpo di martello, uno e uno soltanto, non se ne potevano dare due non si poteva ribattere, guardate che tridimensionalità, guardate che profondità grazie anche all'alta conservazione di questo esemplare possiamo vedere il rovescio perché troviamo... degno di aver diritto sì, infatti c'è un'immagine molto interessante, infatti è rappresentato Ercole con il braccio destro riposto dietro la schiena, tiene con la mano sinistra la spoglia del leone di Nemea per cui è noto e la clava appoggiata a una roccia quindi la rappresentazione di Ercole per un giovane, giovanissimo imperatore appena acclamato da un esercito quindi da un potere militare rimanda appunto a un buon auspicio di grande imprese di grandi vittorie, di grande forza appunto militare anche il ritratto che abbiamo visto prima e che giustamente denota delle differenze rispetto a quelli di cento anni prima e ancora dell'inizio dell'impero con Augusto i capelli così corti rimandano proprio a un rigido protocollo militare differenze anche sul tipo di moneta perché vediamo che è una moneta che diventa più leggera una moneta che quindi perde di peso e lo stiamo ripetendo ma perché di nuovo parliamo di monete non parliamo di medaglie non parliamo di rappresentazioni così allegate no ma infatti con Gordiano III pur rimanendo in vigore ancora la riforma di Caracalla però i pesi si erano ridotti ulteriormente quanto pesa questa moneta? questa moneta pesa 4,78 grammi quindi diciamo il diametro è lo stesso anzi compensa forse ancora con qualche millimetro in più però appunto diminuisce il peso che significa in pratica una moneta più sottile e quindi ecco che questa pulizia di conio questa mancanza di fratture questa centratura fantastica si vede tutto il contorno è, voglio dire, merce rara quindi valutatela veramente con moltissima attenzione noi per il 8.203 abbiamo pensato di chiedere 10.560 ho usato questa frase in maniera autoprovocatoria visto che non c'è un contraddittorio perché per noi che l'abbiamo pensato adesso questo è il risultato spiega anche queste cifre 10.560 perché non 10.500, 10.600? perché noi siamo molto cristallini, matematici, pitagorici cioè prendiamo una quotazione ogni anno la fissiamo al 100% e quindi diciamo che se una moneta costa 1000 al 100% se la qualità di quella moneta la giudichiamo al 45% costerà 450% al 50% costerà 500% quindi non si inventa nulla quella qualità vivrà con la moneta la moneta non deperisce non è che è soggetta a usura se non la lanciate contro il muro contro vostro marito, vostra moglie non si rovina e quindi fra 10 anni, 20 anni, 50 anni quando ci dovesse rientrare noi la riconosceremo nostra i nostri certificati faranno fede e andremo a confermare la qualità prenderemo la quotazione che ci sarà fra 20 anni e andremo a calcolare quindi il valore della moneta e allora lì ci sono delle bellissime sorprese e chi avrà avuto quelle monete dirà ah che gentile che è stato mio nonno, mio zio, mia nonna che me le ha regalate o voi stessi direte ah che gentile che sono stato a comprarle qualche anno fa quindi valutatele veramente con attenzione bene, salutiamo questo oro di guardiano terzo l'8203 10.560 perché facciamo in questo ping pong all'argento conoscenza di una moneta veramente fantastica sì, questa è una moneta veramente degna degna di nota prego Paolo innanzitutto ci troviamo davanti a un denaro di Giulio Cese per cui andiamo un bel po' indietro quando ancora l'impero romano non era di fatto ancora l'impero ci troviamo in un momento di guerra civile in cui Roma non è più una repubblica ma non è ancora l'impero che inizierà con Augusto con Ottaviano Augusto il personaggio raffigurato è Giulio Cesare unico diciamo del periodo repubblicano non ancora imperatore che ottenne l'onore di essere ritratto sulle monete è vero anche che molte di queste monete soprattutto denari e sesterzi con l'immagine di Giulio Cesare sono postume cioè successivi alla sua morte e furono coniate sotto il regno di Augusto a tributo a suo tributo ma questa moneta infatti è databile 40 avanti Cristo quindi 4 anni dopo la morte di Cesare che avvenne appunto nel 44 avanti Cristo le famose iddi di marzo durante le famose iddi di marzo allora intanto il ritratto che vediamo appunto è una testa laureata di Giulio Cesare ma la cosa molto particolare che rende questa moneta veramente meravigliosa un caso veramente raro sono il segno di tre punzoni di cui due secondo me sono più diciamo evidenti e riconoscibili sono segni dell'epoca e si tratta proprio di saggi dell'epoca per intenderci vedete che quel segno sotto il naso si vede molto bene che è una mezzaluna un crescente di luna quella punta di freccia sul naso è quella specie di di graffio insomma sotto il mento sì alcuni graffiti appunto sulla figura questo perché esistevano i cosiddetti denari suberati e se ne conosceva l'esistenza anche all'epoca non si allora questi denari non erano monete totalmente d'argento erano semplicemente ricoperte rivestite bagnate d'argento allora il punto la storiografia e diciamo anche proprio la numismatica ha cercato di dispiegare questo fenomeno dei denati risuberati con varie ipotesi una di queste è che fosse un modo diciamo conosciuto dagli ufficiali che presiedevano il conio quindi da chi era all'interno del sistema appunto ufficiale di conio per far pagare ai cittadini che invece ne erano assolutamente inconsapevoli una tassa praticamente una tantum veniva coniata una moneta che non aveva l'anima che non era d'argento massiccio di bronzo bagnata di argento a mo' di tassa altri invece sostengono che fossero opere di abili falsari forse che operavano anche all'interno della zecca stessa e quindi che fossero diciamo delle zecche parallele sicuramente però non legali a scopo di frodo diciamo che la tassa inconsapevole pagata dai cittadini romani risulta tutt'oggi l'ipotesi più accreditata di fatto questi denari suberati sono arrivati anche ai nostri giorni al tempo si conosceva se ne conosceva comunque l'esistenza e questi saggi miravano proprio a provare la veridicità e quindi la diciamo l'autenticità di questo denaro cioè volevano vedere se fosse fatto davvero d'argento o se fosse semplicemente rivestito sì tra l'altro la curiosità di quella soprattutto del saggio a forma di crescente di luna ci dà proprio l'idea di un sistema scientifico di controllo quindi questa moneta è passata in mano a un cambio valuta probabilmente che aveva tra i suoi strumenti di controllo questo proprio per verificare la bontà dell'argento la forma di crescente di luna proprio perché l'argento nell'antichità si associava come immagine alla luna per colore per lucentezza per brillantezza quindi lui tra i suoi strumenti probabilmente aveva questo a forma di luna l'argento essendo un metallo nobile lui andava morbido andava a punzonare se lo strumento diciamo si inseriva facilmente nella moneta significava che la moneta era buona come in questo caso quindi immaginatevi già duemila anni fa c'era il problema dei falsi e quindi i romani in maniera brillante l'avrebbero superato una moneta fantastica per il ritratto per la storia e per queste due particolarità queste due chicche che vi abbiamo si è interessante anche il rovescio di questa moneta anche questo particolarissimo si molto particolare dove troviamo ritratta all'interno di una serie di leggende e di iscrizioni una giovenca possiamo riconoscere brevemente citiamo soltanto la sc che è di senato consulto quindi una moneta sicuramente molto singolare molto particolare noi magari lo diciamo un po' spesso ma perché sono tutte imperdibili però ecco per chi è veramente amante della storia vuole regalarsi una moneta antica di un grande personaggio non dico che sia il più grande ma sicuramente tra i più grandi come Giulio Cesare il 8204 a 3630 euro è veramente un qualcosa da tenere in grande attenzione e considerazione quindi salutiamo il denaro di Giulio Cesare prendiamo fiato ma in realtà per pochissimo perché stiamo per entrare in un mondo altrettanto affascinante ricco di miti di leggende e ancora più antico e pensate che il signore che avete visto coniato su quella moneta cioè Giulio Cesare già collezionava queste monete quindi entriamo nel mondo delle monete greche che quando Giulio Cesare collezionava avevano già 300-400 anni di storia quindi immaginatevi che cosa fantastica infatti questa moneta che vedete ora inquadrata è una moneta che possiamo collocare tra il 400 e il 330 avanti Cristo quindi 400 anni prima quella che abbiamo appena visto è una moneta in argento perché la monetazione greca è una monetazione argentea l'oro è rarissimo si troverà solo successivamente con le monarchie alessandrine prima in alternativa all'argento possiamo trovare l'elettro questa lega antichissima in cui argento e oro sono fusi si trovano insieme non ci sono ancora le conoscenze tecniche le abilità tecniche di scinderli di dividerli per cui l'argento è assolutamente metallo principe di questa monetazione greca ci troviamo davanti a uno statere lo statere era solitamente l'unità di misura che poteva essere indicato poteva essere posto con il valore di due dracme o quattro dracme a seconda del sistema ponderale in cui la moneta veniva chioniata diciamo che comunque come statere si indica un'unità di misura una caratteristica delle monete greche a differenza di quelle dell'impero romano è che non raffigurano nella stragrande maggioranza dei casi e soprattutto in questo particolare periodo storico non raffigurano personaggi imperatori tiranni o monarchi raffigurano le divinità in questo caso ci troviamo davanti a una moneta dedicata alla dea Demetra la dea della madre terra e coniata tra l'altro in magna grecia ora le monete della magna grecia sono sicuramente quelle più interessanti di tutto il mondo greco classico per lo meno perché si distinguono dalla madre patria per una ricercatezza ma anche per una diversificazione nei soggetti nel tipo di coniazione quindi sono più poliedriche sono più da un certo punto di vista anche artistiche e non caratteristica non poco importante molto richieste dal mercato internazionale dicevo appunto che è una moneta coniata in magna grecia in particolare nella regione che possiamo identificare come la lucania e la zecca è la zecca di metaponto metaponto fu una colonia molto antica fondata ancora per opera degli acchei intorno al VII secolo a.C. ed è molto famosa per le sue messi si appunto era collocata in un territorio nella pianura lucana quindi molto fertile e da cui si ricavava da questa pianura una grande quantità di cereali potrebbe essere questo il motivo per cui questa moneta è dedicata proprio a Demetra la dea della terra delle messi e quindi della fecondità della terra e soprattutto però è anzi è certo il motivo del suo rovescio che adesso ci andiamo a gustare perché questa moneta va gustata come tutte le cose belle e buone ed eccolo qua direi l'emblema per eccellenza è l'emblema per eccellenza della zecca di metà ponto la spiga la spiga di brano proprio posta così verticalmente e nel campo a sinistra della spiga vedete il nome di metà ponto in caratteri greci vediamo scritto metà la spiga tra l'altro è stata utilizzata anche nella nostra coniazione cioè nella coniazione della repubblica italiana c'è stato questo richiamo questo rimando a questa antichissima monetazione coniazione appunto della magna grecia per cui anche il valore del non mi ricordo 5 lire aveva appunto la spiga rappresentata questa spiga proprio voleva richiamare la spiga di metà ponto come sempre voglio dire in questo racconto emerge veramente se pensiamo a queste popolazioni 2500 anni fa il culto degli dei questa convinzione dell'esistenza reale questa dedizione devozione totale di questi uomini quindi andavano a magnificare le loro divinità nella maniera in cui erano capaci costruendo delle statue e battendo delle monete incredibili torno un attimo sul diritto di questa moneta perché quello che voglio sottolineare qualora ce ne fosse ancora bisogno è la bellezza estrema di questa moneta perché proprio questi uomini avevano questa capacità e questa ripeto mania passatemi il termine del bello e lo realizzavano veramente in una maniera incredibile guardate l'acconciatura guardate la ricchezza di dettagli di questi boccoli guardate l'orecchino la serenità di questa figura veramente la rende speciale quindi evviva le monete greche perché al di là dell'importanza al di là della rarità che vi ho spiegato più volte qui siamo di fronte veramente a degli oggetti che secondo me uno li compra per la bellezza e non sta a guardare troppo il resto poi il resto in realtà è un resto molto importante perché questo fa parte di una raccolta io anche qui ve lo voglio far vedere non l'ho ancora fatto questo è il catalogo delle monete greche Paola adesso poi mostriamo anche quello delle monete romane quindi il concetto qual è? che qui non è che si improvvisa nulla abbiamo delle raccolte le abbiamo studiate abbiamo selezionato le divinità abbiamo selezionato le monete così come per gli imperatori adesso poi Paola vi farà vedere il catalogo delle monete imperiali e quindi vi sottoponiamo alcune chicche che vi aiutano o a sotterrare il primo seme magari di una grandissima raccolta oppure di far vivere questi oggetti come unicum che però vi regalate proprio per il piacere del possesso poi noi ogni anno vi daremo l'andamento ecco quello che è il catalogo delle romane l'andamento delle quotazioni vi faremo vedere come il tempo non fa che migliorare le performance di questi oggetti però veramente qui un po' lo dico regalatevi veramente per il gusto per il piacere di possederlo e questo statere di Demetria veramente ve lo potete regalare perché la richiesta per il 8.205 è di 1.890 euro quindi veramente non avete scuse quindi non venite a dirmi poi ma volevo ci ho pensato qui chi si muove se la porta a casa bene visto che vi siete come si suol dire scaldati vi diamo il K.O. finale sul mondo antico mostrandovi l'eccellenza come dimensioni come estetica come stato di conservazione con questa moneta d'argento sempre del mondo greco questa è meravigliosa perché ci troviamo tra l'altro tra il 460 e il 450 avanti Cristo quindi siamo davanti a una moneta ancora più antica di quella che abbiamo visto prima infatti notiamo che lo stile è ancora molto arcaico e queste sono delle monete veramente affascinanti e quella che vediamo è un tetradramma quindi 4 drachme d'argento naturalmente tra l'altro non abbiamo fatto vedere prima lo spessore ma era una moneta da 8 grammi questa è una moneta da 16 grammi e 99 quindi quasi 17 grammi questa è un'arma quando i soldati avevano finito spalle e frecce la lanciavano in testa al nemico la ammazzavano in questa moneta il personaggio raffigurato è il dio Apollo il dio della musica il dio del canto della bellezza dell'armonia della poesia ed è ancora una volta una moneta della magna grecia quindi ancora una volta sottolineiamo come veramente le monete la coniazione della magna grecia sia assolutamente molto interessante nel panorama della monetazione greca qui ci troviamo in Sicilia e in particolare la zecca è quella di Leontini diciamo l'attuale Leontini esatto è infatti una caratteristica soprattutto di questo periodo arcaico delle monete che poi in alcune città in alcune zecche porteranno anche avanti è il fatto di contraddistinguere la zecca di provenienza quindi diciamo anche di appartenenza la città di appartenenza con un simbolo particolare e Lentini appunto Leontinoi aveva un particolare emblema se vogliamo vedere il rovescio che è la protome di Leone che diciamo per assonanza richiama anche proprio il nome del luogo vedete la protome leonina e intorno a caratteri i greci il nome appunto della della città Leontinoi che tra l'altro su questo esemplare è veramente splendidamente conservato perché io ritorno sulla prima cosa che ha detto Paola 460 avanti Cristo andate a prendervi un libro di storia si cita come chiaramente un momento epocale per l'uomo la coniazione delle prime monete e parliamo di 600 avanti Cristo parliamo di Lidia recreso quando la moneta come oggetto inteso come supero il baratto e comincio a lavorare con dei pezzi di metallo che riconosco come nobili erano dei bulbi di metallo con un punzone quindi non immaginate una moneta diciamo nell'accezione classica le prime monete veramente così come le possiamo immaginare oggi queste non mettere un'attualità incredibile sono di quel periodo quindi siamo all'origine quindi se voi avete la sensibilità per dire io voglio l'inizio dell'umanità monetaria quindi di quello che è l'origine della moneta qui avete la possibilità di portare veramente in casa un oggetto con questo un'altra caratteristica che magari potremmo anche indicare sempre su questo rovescio è la presenza di questi tre chicchi d'orzo in realtà nella moneta non si vede ma solitamente erano quattro che circondavano tutta la protome leonina con il nome della città questo perché leontinoi appunto lo dianna leontini era colonia fondata nel settimo secolo avanti cristo quindi veramente uno dei più antichi insediamenti nella magna grecia era molto famosa era molto ricca per la fertilità del territorio circostante quindi i chicchi d'orzo rimandano ancora a una produzione tipica della della regione della di questa polis tra l'altro appunto ripeto pur essendo molto ricca perché circondata da questo territorio molto fertile questa città non non fu sempre autonoma ma subì molto l'influenza e la potenza della di Siracusa che era l'era molto vicina quindi abbiamo visto la spiga di grano sulla moneta di metaponto questi chicchi d'orzo questi e la propria meleonina quindi direi che veramente la ricchezza dell'epoca i cereali erano veramente la ricchezza di queste popolazioni insieme con la pastorizia vivevano veramente in una maniera molto basica altro che che le nostre sofisticazioni quindi veramente chiudete gli occhi e ripensate pensate a questi momenti e cercate di farli vostri possedendo una moneta di questa veramente potenza e valore e in questo caso parliamo dell'otto 1206 per questo incredibile passatemi il termine tetradramma di Apollo la richiesta di 3780 euro e quindi chiudiamo questa bellissima direi panoramica nel mondo antico veramente con la maiuscola greco romano e godiamoci queste proposte invece che ci avvicinano un pochettino ai giorni nostri pur rimanendo come in questo caso nel 1800 quindi facciamo decisamente un balzo in avanti in quello che vi dicevo all'inizio della trasmissione essere l'altra grande collezione nel senso che noi seguiamo il filone delle due civiltà del passato occidentale antico greco romano e poi seguiamo questa magnifica collezione legata al mondo praticamente Savoia quindi la storia della LIA dal 1816 al 2001 quindi dall'unità dal regno di Sardegna fino praticamente alla Repubblica nel regno di Sardegna quindi arriviamo un pochettino più vicino a noi il regno di Sardegna sappiamo essere stato governato da Vittorio Emanuele I diciamo partendo dal 1816 l'1816 non è casuale perché giustamente la gente potrebbe chiedere ma perché il 1816 perché nel 1816 dopo il congresso di Viena dopo diciamo i fatti di Napoleone Vittorio Emanuele I ritorna sul trono di Sardegna e introduce il sistema decimale ecco finalmente la risposta quindi si inizia a contare con quel sistema che utilizzeremo ancora oggi come multipli e sottomultipli del sistema base quindi il sistema base era il marengo da 20 lire e venivano coniate monete come multipli e sottomultipli in questo caso ci troviamo di fronte a 4 marenghi cioè quindi una moneta unica perché sono 4 perché questo è un 80 lire è un magnifico 80 lire di Carlo Felice Carlo Felice sappiamo che sale al trono proprio dopo l'abdicazione da parte di Vittorio Manuele I nel 1821 e porta avanti la coniezione che Vittorio Manuele I aveva appena iniziato creando tutto tutto quel sistema che è fatto appunto di multipli sottomultipli ma anche di monete d'argento di rame che servivano per la monetazione quotidiana perché vi ho portato questo 80 lire di Carlo Felice perché sono convinto e lo so e infatti ce lo stanno dimostrando che queste monete piacciono molto a chi insomma ha bisogno anche di sentire non la forza l'impatto emotivo è fisico perché questo è un bel monetone passatemi il termine pesa 25,8 33 mm di diametro quindi una moneta d'oro di grande modulo vedete questo bellissimo volto di Carlo Felice su quello che stiamo ammirando essere il diritto 1825 1825 l'anno di coniazione ancora la leggenda è latino dico ancora perché poi nel regno d'Italia verrà abbandonata e vedete quindi tutti i titoli nobiliari Carlo Felice DG quindi per grazia di Dio re di Sardegna Cipra Gerusalemme anche qui non è che i Savoia erano re di Sardegna e Gerusalemme ma erano diciamo titoli che si portavano avanti dalla casata Savoia che è una casata molto antica dei fasti delle crociate quindi questi difensori della Terra Santa il rovescio di questa moneta è un'altra bellissima opera d'arte perché perché ci mostra il vecchio scudo crociato Savoia o meglio scusate il vecchio scudo prima di quello crociato Savoia con tutti i quarti nobiliari vedete che bello questo scudo centrale molto ricca questa moneta sul rovescio perché ha tutti diciamo sulla leggenda i quarti nobiliari i titoli lo scudo la corona i rami di quercio insomma una moneta veramente molto molto bella che so fa felice appunto gli amanti delle belle monete d'oro che sono alla ricerca di alcuni pezzi da poter selezionare e metterli come piccolo tesoro questa è una moneta poi che se uno avesse voglia su questa moneta si può costruire una piccola raccolta andando ad aggiungere il marengo il 40 lire insomma si possono fare delle cose molto belle l'80 lire di carlo felice è una moneta tra l'altro in questo caso bellissima ma lo si vede perché è una qualità incredibile per lo standard di monete dell'epoca un 50% che voi direte vabbè ma che vuol dire vuol dire che è una moneta che normalmente si trova al 30 al 35 quindi quando ci sono le monete così belle veramente soffermatevi perché io lo dico sempre ai miei clienti compra una moneta in meno ma compra la bella un 80 lire di carlo felice così bello è veramente una cosa assai rara da trovarsi la richiesta per il 8207 l'80 lire di carlo felice è di 3720 euro quindi questa è una moneta su cui fare un pensiero e farlo veramente in fretta perché lo sta facendo in molti e quindi chi prima arriva la porta la porta a casa questo per dire che cosa che l'80 lire di carlo felice è una moneta che possiamo offrirvi con una certa frequenza così bella è veramente difficile e voi lo sapete che io cerco di portare a voi anche per ringraziarvi della pazienza che ci mettete nell'ascoltarci nel seguirci le chicche che abbiamo in azienda quindi approfittate bene a proposito di chicche l'ho già fatto vedere ha avuto un grande successo stiamo continuando con questa campagna quindi approfittatene vi faccio vedere la prossima proposta che è una proposta doppia anzi tripla perché perché si compone di due monete che adesso vi mostro molto velocemente e poi di un bel regalo perché perché vi sto preponendo quello che abbiamo chiamato i tesori d'Italia gli ori d'Italia e quindi un dittico di due monete da 10 lire che vedete alla sinistra dei vostri teleschermi e da 20 lire che si fanno ricondurre a Vittorio Emanuele II a re d'Italia abbiamo appena visto una moneta di Carlo Felice parlando di Regno di Sardegna abbiamo detto che nel 1861 avremo l'unità d'Italia Vittorio Emanuele II che tra un po' vedremo sul diritto di queste monete diventa Red Italia e fa coniare ovviamente le monete in lire con la scritta per la prima volta quindi fantastico Regno d'Italia 10 lire 3 grammi 22 circa 6 grammi 45 per il 20 lire pensate che abbiamo deciso di fare veramente un regalo passatemi il termine perché queste quotazioni sono veramente da regalo e quindi offriamo tutte e due le monete quindi segnatevelo bene tutte e due quindi il prezzo che vi do non è per il 10 o per il 20 ma per la coppia a 895 euro quindi una bellissima coppiata a 895 euro vi faccio vedere il diritto di queste due monete dove possiamo vedere il Vittorio Emanuele II che diventerà re di Sardegna l'unico re che prima era in Sardegna poi diventerà re d'Italia ed eccolo qui quindi con il famoso collo corto come si dice in numismatica che lo distingue da quelle che erano le monete di Sardegna coniato sul diritto di questione 1863 quindi sicuramente le prime monete del regno d'Italia 10 lire 20 lire ho detto 895 euro ma ho detto che c'è un regalo e il regalo ve lo faccio vedere subito e sta qui a fianco a me che aspetta scalpitante questo momento perché? perché abbiamo deciso di fare le cose alla grande le facciamo sempre ma qui ci siamo veramente superati cioè insieme a queste monete abbiamo deciso di darvi il regalo regalo vuol dire che non costa un album che è un album uno scrigno un libro dite quello che volete che si chiama appunto Ori d'Italia ecco questo album ha una finalità molto bella cioè permettervi di raccogliere queste monete avendo un libro veramente un libro parlante che vi racconta la storia che va dall'unità d'Italia all'assassino di Umberto poi ci sarà il capitolo del ventennio poi la fine del regno d'Italia quindi percorrerà tutti questi anni che per l'Italia sono stati anni importanti veramente è successo di tutto nel regno d'Italia ripeto dall'unità alle guerre mondiali il fascismo e ci accompagnerà sfogliando questo libro a fare una bellissima raccolta quindi avremo delle pagine in cui andare poi a inserire le monete che vi sto presentando più tutte le altre che se avete piacere un po' alla volta potrete inserire quindi qui avremo lo spazio per inserire tutte tutte le monete vedete poi passiamo a Umberto quindi perché è bello secondo me non sta a me dirlo quindi spero che voi possiate giudicarlo con altrettanto entusiasmo perché perché non si hanno quei migliaia di cofanetti che uno poi non sa dove mettere si ha un unico grande bellissimo libro che sfogliandolo con lo spazio per inserire la moneta vi permette di conservare in sicurezza la moneta e di godervela anche senza doverla troppo maneggiare contestualizzandola alla storia che quella moneta accompagna quindi ripeto con forza con slancio con passione con felicità perché non sempre ho la possibilità di fare questi grandi regali 895 euro le due monete d'oro un marengo un mezzo marengo più l'album per contenerle quindi il lotto lo ripeto anzi lo dico è il 1209 dittico tesori d'italia 895 euro con il regalo l'album bene poi se vi prende voglia di portare avanti questa raccolta potete appunto andare a inserire le altre monete d'oro del regno d'italia vi ho portato a vedere e non solo perché ve la propongo e spero che vi piaccia una bellissima moneta che fa parte di una serie di monete unica del regno d'italia che è la serie dell'aratrice e in questo caso abbiamo con noi il bellissimo 50 lire cosa succede ecco lo metto un pochettino più dritto nel 1912 come in questo caso in realtà già del 10 viene coniata approntata e coniata una serie chiamata appunto dell'aratrice cioè una serie composta da 4 monete tutte e 4 d'oro del valore di tutti i tagli che esistevano d'oro quindi 10 lire 20 lire 50 lire e 100 lire tutte con lo stesso conio la rappresentazione allegorica è quella dell'aratrice quindi di un'Italia contadina e la vediamo molto bene rappresentata cioè con questa figura femminile che abbraccia questo fascio di spighe di grano vedete come continuamente gli elementi simbolici non si inventano l'abbiamo visto una spiga di grano del 450 avanti Cristo l'abbiamo vista su questa aratrice l'abbiamo l'abbiamo vista ricordata sul 5 lire spiga una moneta della Repubblica perché insomma la moneta è sempre un veicolo di comunicazione lo era nell'epoca greca romana lo è anche in epoca del regno siamo in un'epoca abbastanza tranquilla quindi Vittorio Emanuele III sceglie di rappresentare un'Italia contadina poi la vedremo rappresentata questa Italia come un'Italia marinare come un'Italia anche di soldati di guerrieri e quindi con navi da guerra quindi diciamo che avere queste monete non solo soddisfa ripeto il piacere è un buon investimento ma è veramente anche un po' avere una fotografia veramente dell'epoca questa moneta come vedete che vi vado a raccontare anche nelle dimensioni perché ho detto essere un 50 lire quindi 16 grammi virgola 13 di oro 28 millimetri guardate il diritto perché quello che avete visto è il rovescio e vedete una cosa interessante una curiosità vedete Vittorio Emanuele III che abbiamo visto anche rappresentato altre volte anche nelle puntate precedenti a collo nudo qui lo vediamo che indossa la divisa cosa vuol dire? vuol dire che il re vuol dare un messaggio non è banale cioè non è casuale quello che vedete sulle monete non lo è mai stato quindi da un lato un'Italia contadina tranquilla pacciosa che coltiva il grano ma siamo nel 1912 e quindi l'atmosfera in Europa è abbastanza frizzante diciamo così da lì a poco inizierà quella spaventosa guerra che era la prima guerra mondiale quindi il re si vuole dichiarare su questa moneta anche come comandante dell'esercito quindi il messaggio è siamo un'Italia contadina ma siamo anche un'Italia guerriera ma perché parlo di messaggio? perché queste monete hanno la stessa caratteristica delle monete degli imperatori cioè dalla notte dei tempi al Bretton Woods primi negli anni 70 le monete valevano tanto oro quanto pesavano quindi cosa vuol dire? che un 50 lire di Vittorio Emanuele III essendo un multiplo di un marengo poteva tranquillamente circolare in tutta Europa quindi in buona sostanza in Europa tu potevi pagare con un 50 lire dell'aratrice e loro prendevano che cosa? una moneta da 16 grammi d'oro amen poi che ci fosse Vittorio Emanuele III sopra era un dettaglio quindi però circolava in tutta Europa quindi ecco perché il messaggio di questa Italia contadina di questa Italia anche guerriera quindi il 50 lire dell'aratrice diventa veramente una moneta fantastica che potrebbe vivere in che modo? da sola perché ognuna delle monete che vi abbiamo mostrato da quella che costa 700 euro a quella che costa 10.000 brilla di luce propria può vivere questa è bellissima in una serie che è la serie dell'aratrice e può vivere soprattutto in questa bellissima raccolta che è la raccolta degli ori d'Italia in quanto tempo va fatta? del tempo che volete voi quello che visto che la trasmissione sta finendo vi faccio vedere di corsa altre cose perché non mi piace ma voglio ancora chiarire qualche concetto qui nel momento in cui voi decidete di telefonare non è che state entrando in un mondo in cui adesso che succede intanto telefonate per avere maggiori informazioni ho visto quella moneta dell'aratrice vorrei saperne di più vorrei sapere come pagarla eventualmente se decidesse di comprarla vorrei sapere come funziona la raccolta poi la velocità con cui si fanno queste raccolte la decidete voi noi abbiamo clienti che compro una volta l'anno una volta di 10 anni e clienti che compro una volta alla settimana lo decidete voi quindi non vi preoccupate non è un meccanismo in cui si entra e si finisce chissà come quindi intanto ricordiamo i dati del 50 lire dell'aratrice che è l'8208 a 6900 euro in qualità pazzesca un 75% ricordiamo che siamo presenti in tutta Italia che abbiamo negozi a Milano a Torino a Roma a Verona che abbiamo agenti in tutta Italia quindi veramente benvenuti da Bolaffi lo dico come frase conclusiva apriteci le porte di casa vostra con tranquillità non è impegnativo ci conosciamo e se vi piace vi comprate queste grandi grandi meraviglie grazie a tutti arrivederci alla prossima grazie arrivederci grazie a tutti grazie a tutti